Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like dopo aver visto il video un commento e poi se volete seguirmi sugli altri social trovate tutto nell'info box allora, video in cui dobbiamo dire tante cose, prima parte la dedichiamo alla difesa e poi parliamo alle voci dell'attacco vi ho lasciato sbollentare, perché comunque non c'era nulla da aggiungere voglio spendere due parole sulla trattativa di Miral Romero per aiutarlo a mandare giù un boccone che chiaramente è difficile, perché l'Atalanta ha perso, ha venduto il suo miglior difensore quantomeno il miglior difensore che l'Atalanta ha avuto negli ultimi anni, mettiamola così innanzitutto dobbiamo essere onesti, l'Atalanta ha fatto la parte del leone, non ha aperto la porta subito ha trattato, fin quando il buon senso è rimasto dalla nostra, ha resistito quando la cifra era obiettivamente irrinunciabile mettiamoci anche la volontà del giocatore, a quel punto si è dovuto vendere chi storce il naso dicendo che il prezzo non è irrinunciabile perché comunque lo deve riscattare dalla Juve ecco perché vendiamo quelli della primavera al posto che fanno i giocare però a un certo punto se tu vuoi andare a parlare di calcio importante questo è il massimo che puoi ottenere hai comprato un giocatore a 25 per rivenderlo potenzialmente a 50 hai comprato un giocatore a 20 mi pare, non ricordo più per rivenderlo potenzialmente a 57, accontentiamoci secondo luogo l'Atalanta rimpiazza Romero con l'unico giocatore oggi in Italia che può effettivamente rimpiazzarlo, ovvero De Miral, giocatore importante giocatore che ha avuto dei problemi fisici ma che è un giocatore di valore io ricordo che Romero prima di venire qua non è che fosse questo fenomeno di conseguenza è auspicabile o quantomeno io spero che Gasperini sappia tirar fuori il meglio anche da De Miral che come potenzialità ci va molto molto vicino se ci aggiungiamo anche Lovato che secondo me tutti stiamo un po' sottovalutando e il cambio importa, francamente io credo che il reparto difensivo sia stato migliorato aggiungiamoci in più se non siamo contenti che visto che De Miral è un po' una scommessa fragilità, non fragilità fisica e quant'altro l'abbiamo comprato l'abbiamo preso in prestito con un'opzione d'acquisto non obbligatoria cioè più di così non si poteva fare poi chi mi dirà Bottman, chi mi dirà di qua o di là però obiettivamente si è andati forse più sul sicuro le caratteristiche sicuramente si avvicinano di più De Miral si avvicina di più a Romero che a Bottman che un'altra tipologia di giocatore e quindi per quanto concerne il tifoso che ovviamente è un po' amareggiato per aver perso Romero direi che la valutazione deve essere alla fine positiva perché l'Atalanta si è mossa gran bene o comunque si è mossa al meglio di quello che poteva fare sarà poi il campo a dire se c'è stato effettivamente un miglioramento o un peggioramento ma io ripeto, amo farmi stupire da Gasperini e dagli altri ragazzi passiamo al discorso attacco l'Atalanta si trova in mezzo a un effetto domino il Chelsea vuole prendersi Lukaku l'Inter non è nelle condizioni di dire di no e vorrebbe Zapata anche qua mettiamo da parte un attimo il tifoso che proverebbe parecchio dispiacere a perdere Zapata e mettiamo in ordine due cose se l'Inter offre tanti soldi per un attaccante di 30 anni che la prossima stagione chiuderà 31 anni lo devi vendere certo devono essere tanti però è un'operazione che anche lì non puoi fare se ti fai guidare dalla logica non puoi tirarti indietro da un'operazione del genere se vuoi essere logico poi ovviamente ci sono anche altre valutazioni da fare però è un'operazione che parliamoci chiaro se ti offrono 40-45 milioni la devi fare punto e basta la cosa su cui però io vi invito a soffermarvi è che l'Atalanta ha già individuato quanto meno secondo diverse fonti perché poi una fonte non gli dai credito due incomincia a ascoltare tre, quattro, cinque fra cui di marzo, romano insomma io le prendo un po' per buone queste fonti ci dicono che l'Atalanta se eventualmente arrivasse un'offerta che viene ritenuta con e quindi va a cedere Zapata lo vuole rimpiazzare con uno fra Belotti, Abram e Vlaovic io ve li ripeto un'altra volta Belotti, Abram e Vlaovic cioè già lì ragazzi il salto qualitativo che abbiamo fatto perché sono nomi che quattro, cinque club in Italia possono ambire ad avere quindi ragazzi il salto c'è sono giocatori che possono piacere non piacere poi ognuno c'è i suoi gusti ma sono giocatori chiaramente di fascia alta sono giocatori da top club e io quando leggo che l'Atalanta va a parlare col Chelsea per Abram e che vale 40 milioni ma il Chelsea potrebbe abbassare il prezzo perché così Lukaku si sblocca e quant'altro cioè è da pelle docca è questo il dettaglio su cui noi tifosi dobbiamo soffermarci perché fino a un paio di anni fa due o tre anni fa un attaccante del Chelsea che con i numeri che ha tra l'altro perché al di là dell'ultimo periodo i numeri sono assolutamente buoni ce lo saremmo sognato se non arriva lui Belotti che anche qua Gusti può piacere non piacere convincere non convincere è l'attaccante della nazionale piace a Gasperini è un attaccante che ha messo delle condizioni e ha sempre fatto bene quindi anche lì obiettivamente non mi lamenterei oppure Vlaovic c'è chi c'è il naso Vlaovic non potrà mai venire se Vlaovic vuole giocare le coppe in Italia o va all'Inter o va all'Atalanta ovviamente l'Atalanta spenderebbe i soldi che arrivano da zappata ma quando arriva un discorso di top club questo devi fare però vi invito davvero per l'ennesima volta a tenere in considerazione che l'Atalanta si trova in mezzo all'effetto domino non è nella posizione di poter decidere perché a un certo punto anche i giocatori davanti a tanti picci vacillano ma nel caso ci siano delle cessioni importanti le va a rimpiazzare con nomi assolutamente di prima fascia questo deve essere quello che resta poi a fine mercato con la rosa in mano guardando le partite potremmo dire abbiamo fatto delle buone operazioni o meno sicuramente l'Atalanta non si sta tirando indietro non sta avendo il braccino corto sta individuando solo profili alti ha preso il miglior portiere della serie A il difensore giovane più promettente ha preso un giocatore come De Miral da grande potenziale ne sta seguendo altri insomma l'Atalanta sta facendo il possibile per gestire questo mercato effetto domino uscendo nella forzata e i nomi che sono sul taccuino ci confermano questa cosa poi è ovvio che da tifosi uno dice no Zapata deve restare però il mondo è più complicato il mondo è più complicato probabilmente questa situazione l'avremmo discussa fra un anno però si sono create le condizioni quindi attendiamo di vedere se l'Inter effettivamente fa quello che deve fare e dopo vediamo su chi si va ma sono tutti profili di altissima qualità di conseguenza io personalmente non mi fa riprendere dalla disperazione perché comunque la squadra esce palesemente rafforzata poi non si può vivere con l'ossessione di far sempre un punto in più ogni anno ma se restiamo nei piani alti una volta al posto che arrivare terza arriviamo quarti fa parte del gioco nel senso però la squadra esce palesemente rafforzata se facciamo delle operazioni o comunque su un livello molto alto poi sarà il campo a dire dove ci andiamo a piazzare ma poi sul campo c'è un signore in panchina che sa il fatto suo quindi giusto avere magari un po' di patemi da tifoso ma poi svolentiamo facciamo i razionali e rendiamoci conto che non ci sono ulteriori strade io vi ringrazio tantissimo fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e per quanto riguarda tutte le notizie di calcio in mercato e quant'altro il mio invito è sempre quello di consultare atalantini.com ciao